Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo al manacco di bellezza 17 aprile Leonardo Piccinini Piero Maranghi e tantissimi auguri dolcissimi a Nicoletta Nicoletta Ceccolini chi volesse assistere allo spettacolo con i suoi costumi a Trieste al Teatro Verdi non ha che da venire a Trieste il 26 la prima poi ci saranno repliche il 27 il 28 e ancora ci sono scuse nel mese di maggio poi Trieste è sempre un viaggio che vale la pena sì meraviglioso io vado ogni giorno da Beppi a mangiare la lingua con raffano ormai è una presenza stabile va bene e viva tanti auguri Nicoletta auguri solda magnifica d'un courage jamais abattu d'une dignité egale a son abnegation conte parmi le gloire les plus pure dell'armée française la france ha inscrit dans son histoire les étapes de cette extraordinaire carrière de soldat oggi racconteremo un'evasione amiche e amici dell'almanacco che è quella che avviene venerdì 17 aprile del 1942 è un generale era un venerdì 17 era un venerdì 17 e ai nazi doveva andare qualcosa stolto il generale Henri Giraud che era già comandante della settima armata dell'esercito francese riesce a fuggire da dove Leonardo da una fortezza alla fortezza di Königstein siamo nella cosiddetta Svizzera Sassone per l'esattezza nell'Elbe Sandsteingebirge siamo sopra un'ansa del fiume Elba era la fortezza dei re di Sassonia era un posto considerato inespugnabile un luogo bellissimo se andate a visitarlo c'è tutta la storia di questi prigionieri illustri c'è stato Bakunin c'è stato lo stesso inventore della porcellana che veniva tenuto lì chiuso perché il signor Maisen but girl no certo e la chiamavano la cosiddetta Bastiglia di Sassonia tra l'altro ci sono le famose vedute di Bernardo Bellotto 5 che tre anni fa sono state per la prima volta in 250 anni riunite alla National Gallery quindi un luogo davvero evocativo quello che succede con Giraud è qualcosa di totalmente inedito mai era accaduto nella storia di questa di questo luogo che insomma chi va a vederlo capisce quanto sia imprendibile si vede fino alla Bohemia poi ci sono le pareti della fortezza che sono costruite direttamente sulla roccia quindi è come sono come delle pareti da scalare delle cime di Lavaredo insomma pensare che un sessantenne perché questo generale aveva più di 60 anni sia riuscito in un'impresa del genere ed era pure claudicante per una ferita quindi devo dire un vero eroe la storia di questo personaggio è una storia molto particolare è stato il grande rivale di De Gaulle era meno intelligente militarmente di De Gaulle ad esempio e questo sappiamo a cosa avrebbe portato non era così convinto dell'uso dei carri armati mentre De Gaulle invece già innovatore qual era li considerava estremamente importanti tant'è che lui è infatti un prigioniero a sorpresa travolto dalle Panzerdivisionen e catturato con tutto il suo quartiere generale nella tarda primavera del 1940. Sì siamo il 19 maggio del 40 la campagna di Francia senti questa fortezza isolata appunto nel bosco le mura di 40 metri e era considerata davvero inviolabile e c'erano imprigionati i pezzi grossi dell'esercito francese e dell'esercito polacco cioè le prime due nazioni che erano capitombolate dopo l'inizio delle ostilità. L'evasione faceva parte di un piano concordato con l'esterno sì sappiamo che tutti questi ufficiali appena venivano imprigionati il primo pensiero era la fuga come si vede bene nel film la grande fuga era quasi una cosa lecita anzi doverosa doverosa contare la fuga ricordiamo che De Gaulle durante la prima guerra mondiale credo tentò la fuga 11 o 12 volte solo che nella prima guerra mondiale c'era questo concetto cavalleresco per cui fuggivi e gli altri e i nemici ti facevano l'applauso nella seconda fuggivi rischiavi la ghirba eh sì l'operazione ha un nome in codici l'operazione denise e giro c'è da riconoscere è molto scalpo molto sveglio molto sveglio e nei due anni di prigionia ha imparato perfettamente il tedesco non c'era molto da fare no in effetti o giocavi a scacchi con un futuro maresciallo sovietico come era successo a De Gaulle nella prima o imparavi il tedesco senti aveva ricevuto anche una mappa della zona alle 10 del mattino del 17 aprile 1942 un quarto d'ora dopo il passaggio della pattuglia di guardia il generale fugge come nei fumetti Leonardo sì viene aiutato da due commilitoni si calla nel precipizio con una corda è una corda che era costruito per mesi perché lui si era procurato abiti civili si era procurato denaro tedesco e persino un orario ferroviario aggiornato io non so come avesse fatto anche un rasoio per tagliarsi i mustacchi sì e nel bosco si rade subito appunto i baffi per mimetizzarsi e poi nonostante sia claudicante una giacca tirolese della vecchia ferita di guerra raggiunge la stazione di Bad Shandau a 15 chilometri a est dove lo attende il suo primo contatto che è un ex ergente alsaziano bilingue come tutti gli alsaziani Roger Gerlach la parola d'ordine era Morgan Heinrich buongiorno Heinrich assieme a lui riesce a attraversare la Germania questo non facile ma non ma non facile per niente raggiunge Strasburgo poi siamo nel 1942 quindi diciamo i tedeschi hanno ancora il pieno controllo di tutto territori occupati compresi anzi siamo proprio un attimo prima della grande svolta e sappiamo i due attraversano la Svizzera e arrivano a Lione riescono a schivare tutti i tedeschi che incontrano perché i tedeschi controllano i documenti dei passeggeri e Giraud li inganna bene tra l'altro la seconda volta esatto perché già nella prima guerra mondiale c'era riuscito era stato catturato la battaglia di Saint-Quentin e due mesi dopo ferito era riuscito a fuggire anche dall'ospedale vers 1 ore j'ai vu venir sur ce pont là bas qui traverse la voie ferré une silhouette qui m'a semblé être celle du général Giraud mais la distance qui nous séparait ne me permettait pas d'être affirmatif toutefois lorsque le personnage s'est approché j'ai reconnu l'inferméable que lui avait fait le général Préjou et l'office à court tirolien parliamo di Giraud, Giraud classe 1879 è una figura un po dimenticata al di fuori dalla Francia ma anche in Francia perché poi ha sbagliato in politica non poco e certamente ha pagato la sua memoria il fatto che fosse spesso in disaccordo col grande campione cioè con de Gaulle. De Gaulle lo appellava il soldatino di piombo. Sì poi De Gaulle non era molto tenero perché il carattere di De Gaulle sappiamo. Mamma ma anche Giraud erano quei comandanti ancora. All'orizzonte di Gloria. Esatto la cosa curiosa è che dopo un episodio del genere uno pensa vai agli alleati. Vai in Inghilterra. No lui va a Vichy a Vichy si presenta il 27 aprile del 1942 quindi pensate solo dieci giorni in questa fuga dalla Sassonia a Vichy che è un viaggio molto periglioso diciamo e il capo del governo è l'orrendo Pierre Laval che ovviamente è hitleriano ormai in tutto e per tutto e lo vorrebbe mandare da Hitler. Che nel frattempo l'ha presa malissimo. Sì dunque sappiamo che Himmler aveva scatenato la Gestapo per tutta la Francia e Hitler la considerava un affronto insopportabile. Gli viene in soccorso in quanto diciamo ancora uomo proveniente dal vecchio mondo è il maresciallo Pétain. Philippe Pétain che si oppone lascia che Giraud Pascolin una sorta di semiclandestinità a Lione e sono i mesi quelli in cui Roosevelt e Churchill sempre più insofferenti dell'indipendenza di De Gaulle stanno organizzando l'operazione Torch. Di che cosa parliamo? È lo sbarco nel Nord Africa, Marocco e Algeria che serva poi a come base da cui partire per la liberazione di tutto il Nord Africa e cercano un generale a cui affidare il comando delle truppe francesi dopo lo sbarco. Gli alleati propongono quindi il posto a Giraud. Giraud non è da meno rispetto a De Gaulle. Giraud te la sei appena cavata baciati i gomiti. Invece pone delle condizioni tipo comandare il tutto, comandante in capo al posto di Eisenhower. Oppure non combattere al fianco degli inglesi che per lui erano insopportabili perché avevano distrutto la flotta francese in Algeria nel luglio del 40. Quindi lui rimane lealista alla Francia al di là del regime diciamo. È proprio un nazionalista imperterrito. Però alla fine accetta e il 7 novembre del 42 Giraud sbarca di nascosto a Gibilterra. La settimana successiva l'operazione Torch va in porto con successo e dopo Natale lui assume l'incaico di alto commissario dell'Africa e quindi vale questo titolo per Algeria, Marocco, Tunisia, Africa occidentale francese. E lo sappiamo. Quella è Senegal. Quella è stata un'operazione molto molto complicata dalle politiche e soprattutto dalle rivalità tra gli individui che ne erano protagonisti. A Giraud dava fastidio De Gaulle, a Roosevelt dava fastidio De Gaulle, De Gaulle dava fastidio a tutti, ma De Gaulle era il simbolo. Cioè tutti i francesi che resistevano. Aveva dato una dignità a un paese che l'aveva persa. Esattamente e quindi non si poteva prescindere da questa figura diventata simbolica e la cosa che stupisce di Giraud è che nonostante fosse evaso era un filo governativo e quindi era ancora per certi versi legato all'autorità di Petain, all'autorità quella che si era stabilita a Vichy. Per cui ci fu un momento di imbarazzo perché ad esempio le leggi antisemite, sappiamo che l'antisemitismo è una cosa in Francia atavico e non solo in Francia, e lui le mantiene nel momento in cui diventa comandante. Pensa che cosa pazzesca. Creando dei problemi gravissimi e la stessa diplomazia alleata non lo spinge ad entrare in contatto con De Gaulle. Siamo alla conferenza di Casablanca del gennaio del 43 e ad accettare dal 3 giugno del 43 la creazione del Comitato Francese di Liberazione Nazionale, la cui direzione restò almeno fino a novembre, quindi novembre del 43. Siamo in quel momento in cui c'è bisogno di tutti. Poi dopo con lo sbarco in Normandia le cose cambieranno e quindi la direzione rimane condivisa. Tra i due. Senti Leonardo, anche grazie al carisma del generale e al suo intuito e soprattutto al debito che andava pagato all'America e all'Inghilterra, la stella di Giraud cade molto velocemente. Lui nel 43 deve lasciare ogni funzione politica e ritorna a fare il comandante delle forze francesi dell'Africa del Nord. Viene nominato ispettore dell'esercito l'8 aprile del 44, poi insomma si ritira e passa alla riserva nelle memorie, e questo è un dato di onestà, ammise di essere stato sul piano politico di una incompetenza, di una goffaggine e di una debolezza inconcepibili e muore a Dijon a 70 anni, l'11 marzo del 1949. C'è il libro. Sì, che si chiama Mes Evasion, le mie evasioni. Quindi leggetelo se avete voglia di evadere, anche diciamo nella lettura. Un'evasione tira l'altra. Essendo morto nel 49 si è risparmiato di dover assistere al trionfo assoluto di De Gaulle quando verrà richiamato a fondare la Quinta Repubblica. Sai che l'Almanaco viene visto anche in molte carceri, quindi possono prendere spunto. Prendete spunto. Facciamo anche dei disegnini, anche perché sappiamo che uno dei due, ed è chiaro chi... Vi verrà presto a trovare. No, vi raggiungerà, non vi verrà a trovare. Vi raggiungerà e organizzerà lui l'evasione. Avete capito? Leonardo, quest'anno due occasioni, una mostra alla Tate Britain e un documentario in arrivo per celebrare un grandissimo protagonista dell'arte. Dell'arte a cavallo tra l'otto e il Novecento, di chi stiamo parlando? Di John Singer Sargent, grande ritrattista ma soprattutto grande protagonista della Belle Epoque perché un artista che definire americano è così, è un modo per sminuirne l'importanza. In realtà è stato il grande narratore di quel mondo che si apriva delle tratte atlantiche, quindi New York, Parigi e anche Londra. E un po' d'Italia. E un po' d'Italia, certamente, diciamo, se Van Dyck hanno immortalato le grandi classi di sovrani, di regnanti, artisti invece più attenti a quella che sarebbe stata la middle class che nasceva e che avrebbe conquistato il potere, penso a Franz Salz, ad esempio, sono paragonabili all'epopea di Sargent. Perché Sargent raffigura tutto un mondo, i cantanti, gli industriali, i banchieri, i borghesi della sua età. Le Belle Signore. Le Belle Signore. Questo lo rende anche molto affine a un altro grande ritrattista di quegli anni, di cui era molto amico, Giovanni Boldini. Abbiamo un ritratto che gli fa Boldini a fine Ottocento, cioè proprio anche, diciamo, non c'è rivalità, si scambiano anche i contatti. Sargent era impegnatissimo, aveva una quantità di committenze enormi e i suoi quadri costavano tantissimo. Ci sono delle opere indimenticabili, ad esempio il ritratto del dottor Pozzi, che si conserva all'Hummer Museum di Los Angeles, il primo dipinto che lui espose alla Royal Academy. La mostra della Tate è una mostra, diciamo, riuscita un po' a metà, perché è una mostra su Sargent e la moda, è aperta fino a luglio, ma è interessante perché è l'occasione per poter vedere molte delle sue opere riunite, perché queste sono molte in America, alcune in collezione privata. Quindi, diciamo, questa mostra è un pretesto straordinario. Senti, Leonardo, lui, ne parliamo oggi, muore il 17 aprile del 1925, l'anno prossimo saranno 100 anni, a Londra. Allora, per caso era nato a Firenze il 12 gennaio del 1856, secondo figlio di un facoltosissimo chirurgo americano, Fitzwilliam Sargent, e di Mary Singer. La coppia aveva lasciato l'America dopo la prematura morte della primogenita di soli due anni, e voleva trovare cura e, come dire, consolazione nel clima mediterraneo. E soprattutto trovare consolazione alle cattive condizioni di salute della madre, che sarà influentissima nella vita professionale, umana e artistica del figlio. In realtà la madre soffriva di una sorta di depressione, aveva una malattia dell'animo più che del fisico. Quindi, diciamo, in quegli anni si poteva nascere o in Svizzera, se c'erano dei problemi di altro genere, o in Italia, perché faceva più caldo. C'era più caldo. È uno degli ultimi figli del Grand Tour, in questo senso. Sì, in questo senso, bravo. La madre era molto colta, era una donna intelligente, curiosa, e veniva da una agiatissima famiglia di Filadelfia. Ed è lei che spinge certamente il figlio verso l'arte. Poi Firenze non è una scelta a caso, perché a Firenze c'era una vastissima colonia di anglo-americani, quelli che venivano chiamati gli anglo-beceri, e quindi c'era solo l'imbarazzo della scelta nella frequentazione di stranieri che vivevano da quelle parti, Fiesole, San Mignato. E che sono ancora lì. E alcuni ci sono ancora. Il mondo di James Ivory. Il mondo di James Ivory. Diciamo che il fascismo ha dato un'ammazzata su questo mondo dorato. Senti, dopo la nascita di John, arriva una sorella e altri quattro fratelli, di cui solo due riescono a sopravvivere. La madre è certamente l'artefice della vocazione di John, e lei decide per il figlio una giovinezza non ordinaria, fuori dagli schemi. Insomma, aveva visto lungo, aveva capito le potenzialità di questo ragazzo, perché non tutti hanno questa sensibilità, ovviamente, però lo porta in giro, lo porta nelle principali città europee, lo fa studiare, ma il suo è un insegnamento, diciamo, più coinvolgente. È un insegnamento sul campo, cioè lo porta veramente in giro a vedere le grandi opere d'arte, mica male. Mica male. Se te lo puoi permettere, se tutti facessero così, quelli che se lo possono permettere oggi, avremmo un mondo migliore. Qualche Porsche in meno a dei figli e qualche museo in più. Direi così. Eh, tutta invidia la nostra. Perché Piero vorrebbe una Porsche. Io vorrei la Porsche, sì. Lui dimostra subito di avere uno spiccato talento artistico e inizia a copiare le illustrazioni della madre, le vignette che vede sui giornali. Tra l'altro è questa in cui infanzia è passata sui ponti di stupendi piroscafi che lo portano da una parte all'altra del mondo. Beh, che gioia. E inizia a studiare a Roma. Siamo nella Roma del secondo ottocento, quindi una Roma bucolica con ancora i bovi, le grotte, la gente che viveva nelle grotte. Era una Roma poverissima, ma anche bellissima. Tu appena uscivi dal centro avevi una campagna intatta. Poi si passa all'Accademia di Belle Arti di Firenze e poi si approda a Parigi, tappa fondamentale anche per gli incontri e le amicizie che nasceranno, dove? All'Ecole des Beaux-Arts. Lui a Parigi si trasferisce in pianta stabile esattamente 150 anni fa, siamo nel 1874. La capitale francese era imprescindibile, trampolino di lancio per tutti gli artisti. Va a bottega e vogliamo salutare Pino Gavazzeni, più grande, appassionato ed esperto di pittura francese di ogni secolo. Dell'Ottocento in particolare, da Carolus Duran. Carolus Duran è un grandissimo ritrattista, molto ricco, di tante donne. E gli insegna un po' i ferri del mestiere, si potrebbe dire, e poi addirittura conosce Claude Monet diventandone amico. In breve compie il suo primo viaggio negli Stati Uniti, quindi diciamo, l'abbiamo definito americano e lo è, diciamo, per nascita, ma lo diventa di fatto a vent'anni. E rientra a Parigi, anche perché a Parigi non c'è gara, è lì il centro del mondo. Più che a Londra, soprattutto per le belle arti, perché è lì che proprio quell'anno lì, 1874, l'abbiamo detto mille volte, proprio in questi giorni, c'è la grande nascita dell'impressionismo. Lui espone al salon con un ritratto di un'amica di famiglia e i ritratti saranno, soprattutto di donne, di belle donne, un tema ricorrente della sua pittura. Diventerà molto noto e soprattutto molto ricercato. Parliamo di personaggi molto spesso ricchi, belli, e lui ha maestria anche nella rappresentazione dei tessuti e dei dettagli. Sì, poi dobbiamo dire che loro si affidavano a Sargent. Sargent era talmente famoso, quindi incuteva un certo rispetto, come oggi un grande artista alla page, per cui lui faceva anche da coreografo, da ricercatore di oggetti, sceglieva lui quali vestiti la persona raffigurata doveva indossare, quali accessori, e imponeva anche ciò che non volevano i suoi clienti, perché comunque lo lasciavano fare, alla fine era lui che vinceva nella scelta. E questo li ha resi, alcuni di questi, immortali. Senti, Leonardo, c'è ancora l'Italia, 1878, è un'Italia finalmente unita con Roma capitale, lui va a Napoli e poi a Capri, e dipinge una serie di studi di una giovane che noi conosciamo come la ragazza di Capri. Un altro luogo italiano che non si poteva non toccare è Venezia. Venezia, dove lui sarà molto presente, sappiamo che Venezia è un luogo di spunto di una delle sue grandi amiche collezioniste, Isabella Stewart-Garner, che recupererà lo stile veneziano per creare il suo palazzo di Boston, è il mondo di Henry James, sono i bostoniani che lui conosce a Palazzo Barbaro, è un mix tra letteratura, il carteggio Aspern, Sargent, molti soldi ci sono, si naviga nel lusso, ci sono americani che se la godono molto. E Henry James sarà un amico della vita del nostro Sargent, e lui rimarrà molto colpito dalle opere di James. Molto colpito. Poi la Spagna, la Spagna che era anche l'oggetto di interesse dell'opera di Manet, lui compra l'asta a due schizzi di Manet e diventerà un grande appassionato dei capolavori di Velázquez, che studierà e a cui si ispirerà. Possiamo immaginare, salutiamo il nipote tu, il simpaticissimo, che abbia incontrato anche Axel Monte. Sì, alla fine... Quel mondo meraviglioso. Erano pochi, eh. Senti, c'è un ritratto misterioso, che in realtà ha un'intestataria, perché è il ritratto di Madame Gautreau, ma passa alla storia come il ritratto di Madame X. È un quadro che fa scandalo, c'è una spallina che cade, poi lui l'avrebbe ritoccata. Pensa a te. Ma c'è il rischio addirittura che una certa società un po' bigottona gliela faccia pagare. Pensa che siamo a quasi cent'anni di distanza dalla Paolina Borghese, però corsi ricorsi. C'era la regina Vittoria che faceva mettere... D'altra parte dopo lo scià di Persi è arrivato Comeni, eh. Eh sì, succede. Sì. Succede. Senti, o una donna, una chimera, la forma di un unicorno impennato come su uno stemma araldico, o è forse l'opera di un artista orientale cui è vietato riprodurre la forma umana e volendo evocare l'immagine di una donna ha tracciato questo delizioso aramesco. No, non è nulla di tutto questo, è piuttosto l'immagine precisa di una donna moderna. Questo scrive Judith Gauthier in occasione dell'esposizione del Salon il primo maggio del 1884. Rodin, lo chiamava il Van Dijk dell'epoca, comincia ad allontanarsi da Parigi e a preferire Londra da anglosassone, diciamo. Ma perché poi? Perché sono gli anni in cui Londra comincia a diventare a sua volta centro del mondo con grandi esposizioni internazionali, con la Royal Academy che sforna opere, sforna tendenze, e lì proprio la Royal Academy viene eletto e diventa in breve il ritrattista più ambito del mondo anglosassone. Certo, abbiamo citato Boston, ecco, la sua prima personale in America è un trionfo e lui però non smetterà mai di viaggiare, cioè la madre l'aveva abituato bene e quindi lo sappiamo in Egitto, in Grecia, in Turchia, in Siria, in Spagna, in Norvegia, in Palestina e di nuovo sempre in Italia. Gli americani dicono abbiamo un artista americano facciamogli fare delle cose qua importanti e quindi arrivano anche delle commissioni pubbliche perché lui decora gli ambienti della library di Boston. Di Boston. Senti Leonardo a un certo punto con la maturazione si lascia un po' la ritrattistica e anche lui è bisogné nella misura in cui si inizia a dipingere en plein air. D'altra parte il brevetto del tubetto era americano e non a caso perché in America si partiva per delle distanze considerevoli e quindi il tubetto doveva potersi chiudere e riaprire. Sappiamo che Edoardo VII lo propone alla carica di Cavaliere un titolo che però lui non può avere perché non è cittadino britannico e tutte le maggiori università gli conferiscono le lauree ad honorem. E' il momento più splendido per una certa high society mondiale è il momento in cui si svolgono le grandi esposizioni in cui l'entente cordiale crea un link finalmente persino architettonico per cui il Ritz di Londra viene fatto da una compagnia francese e quel mondo è il mondo dei committenti di Sargent. E la mattina del 17 aprile dopo una cena con alcuni amici e la sorella a Londra lui viene trovato morto nel suo letto in Tide Street diciamo che questo pittore instancabile oltre ad aver girato il mondo ha dipinto circa 900 oli e più di 2000 acquarelli oltre a innumerevoli schizzi e disegni a carboncino. Sì, esatto. Facciamo l'appello insieme. Sì, se vi doveste imbattere in qualcosa che vi ricorda Sargent chiamatemi. No, mandateli. No, non chiamatelo tanto non risponde scusa adesso non puoi rompere le tradizioni. Noi accendiamo una gallina vera cioè prendiamo una gallina viva gli mettiamo una lampadina per ringraziare no, dopo gliela togliamo adesso. Che orrore. Va bene evviva. Il Tibota torna con noi oggi 17 e ci dice che mercurde 17 al setire so i calzat che vuol dire si è tirato sulle calze perché indica il passaggio a una situazione di povertà a una situazione di ricchezza la foggia di questa giacca Foggia proprio Foggia la Porsche no, Foggia Puglia in questo senso ma la Porsche la Porsche come si deve dire la Porsche io non ce l'ho però ho conosciuto una ragazza che si chiama Porsche va bene Leonardo ah così? sì ma no forse avevi capito male no no Porsche Porsche è quella del pesce di nome Vanda non si chiama Porsche la ragazza insopportabile ah ecco comunque rileggete Harry James pensando ai quadri di Sard e guardate un pesce di nome Vanda va bene Leonardo è un anniversario purtroppo tragico quello del 17 aprile del 1944 che è stato recentemente raccontato su Repubblica l'operazione Balena diciamo ci avviciniamo al 25 aprile questa fu una tremenda operazione di rastrellamento del quartiere Quadraro a sud-est di Roma i nazisti punivano questo quartiere popolare nido di vespe di partigiani deportando in Germania 750 abitanti una vicenda ignorata dagli storici ma nel 2004 il Quadraro ha ricevuto la medaglia d'oro al valore civile nel 2018 Sergio Mattarella ha nominato gli ultimi sette sopravvissuti commendatori al merito della Repubblica italiana in Campidoglio oggi una cerimonia per gli 80 anni chi volesse saperne di più di questo periodo tremendo un libro bellissimo edito dal saggiatore di Robert Katz Roma città aperta settembre 1943 giugno 1944 perché a giugno saranno gli 80 anni della liberazione di Roma di Roma e viva al manacco di bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini con Lucia Simioni Stefano Puppini Jacopo Milardotti Paolo Faroni Riccardo Cassani Greta Torresi Samantha Chiodini realizzato da Amerigo Daveri Valentino Puppini Luigi Consolandi Stefania Margheritti Alessandro Puppini prodotto da Piero Maranghi una produzione classica HD Sky canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo Grazie a tutti